Guido Guidesi, sulla spendi review del governo Renzi, oggi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha detto che sia una spendi review costruttiva. Lei crede che i tagli Cottarelli siano possibili o siano stati ragionati male? Cottarelli dopo un lavoro di alcuni mesi ha semplicemente presentato un piano, presentato tra l'altro dobbiamo ancora vederlo noi, ma pare abbia presentato un piano di tagli lineari, una cosa molto semplice da effettuare. Rispetta il governo Renzi sapere dove si può tagliare e dove non si può tagliare. Noi pensiamo che il comparto principale dove poter tagliare e risparmiare spesa pubblica sia quello dei dipendenti pubblici. Il governo Renzi abbia il coraggio di affrontare questa situazione, ma pare che dalle parole del Ministro Madia che dice di mandare in prepensionamento 85.000 dipendenti pubblici sostituiti da giovani, questo non è diminuire la spesa pubblica ma è aumentarla, visto che poi la pensione qualcuno la trova a pagare a questi dipendenti pubblici. A proposito del Presidente del Consiglio Renzi, stamattina è stato contestato da delle mamme precarie che chiedevano più garanzia sul posto di lavoro? Le mamme che l'hanno contestato l'hanno contestato al Sud, dove è noto oramai che il governo sia Letta che il governo del Presidente del Consiglio Renzi provvedono continuamente all'assistenzialismo, per cui si aspettano queste mamme, quello che sempre ha fatto il Partito Democratico, per cui assistenzialismo, stabilizzazione di dipendenti pubblici, stabilizzazione dei precari. Renzi sarebbe opportuno che al posto di continue comparse cinematografiche, iniziasse ad occuparsi dei provvedimenti in concreto e non continui a pubblicizzare un operato che non è quello che effettivamente sta facendo.